Il Movimento 5 Stelle inizia a incartarsi nel momento in cui passa dal Conte 1 al Conte 2 da una tesi politica ad un'altra che è l'opposto. In mezzo non c'è niente, cioè ci passa una soluzione di continuità. Non c'è un congresso, non c'è un confronto, non c'è qualcosa che nella grammatica politica sarebbe imprescindibile perché se tu passi da un Conte 1, dove il Conte con quell'alleanza diceva di essere orgogliosamente un Presidente del Consiglio di un governo sovranista e populista e passi ad un'altra pasta politica che è fatta con il Partito Democratico, con Renzi, con gli europeisti e ripeto, in mezzo non c'è niente, il Movimento 5 Stelle comincia a incartarsi lì. Cambia pelle, cambia per motivi di propaganda la propria tesi, che a questo punto è una non tesi perché è talmente liquida che è scambiabile in quattro stagioni e va dritto, pensando poi di arrivare sempre dritto e sempre vincente e cavarsela con la strategia di Casalino e ora possiamo dire Casalino e Travaglio perché poi alla fine l'altro grande burattinaio del Movimento 5 Stelle è Marco Travaglio. Alla fine si trovano tutti dentro questo budino molle che non risolve i problemi della gente, di quel popolo degli abissi di cui avevamo detto prima, fanno capire apertamente che sono incollati alle poltrone, prima o poi arriverà la vendetta politica, ma questo è impossibile da non considerare. Alle prossime politiche io penso che l'astensionismo di oggi uscirà allo scoperto e si andranno a prendere una vendetta politica. Tanto già ieri si aspettava la cacciata di Di Maio che però non c'è stata, tutto congelato. No, non è congelato, Conte è un leader dimezzato tenuto in piedi con il doping del fatto quotidiano e di Travaglio che gli dice cose. Oggi o ieri Travaglio ha scritto questo pezzo ricordando a Di Maio le parole del Movimento 5 Stelle sull'Europa, sulla contrarietà dell'Europa, sulla Nato. Quando io ponevo la questione della mia coerenza, per cui poi sono stato espulso e per cui ho detto no ad un governo europeista che era rappresentato dal Conte 2, anche per Travaglio o anche quelli del fatto quotidiano erano partiti con i manganelli mediatici nei miei confronti. Adesso ricordano che il Movimento 5 Stelle aveva raccolto le firme contro l'Euro, ma del resto è tutto così. A seconda della latitudine, dove ti serve ricordare, quindi ti serve il vizio della memoria, ecco che ritornano le vecchie frasi. Conte non è un leader, non ha avuto neanche le palle per fare una supplettiva, che pur ci sono state, ed entrare in Parlamento. Un leader che sta fuori dal Parlamento, come può governare i gruppi parlamentari? Poi è sempre subiudice ancora a Napoli, non è definita la vicenda. Insomma, il Movimento 5 Stelle, grazie a Dio, e io chiedo scusa a coloro che mi hanno seguito e che mi hanno votato, il Movimento 5 Stelle esploderà, esploderà, ma esplode per colpa sua.